Andrizza ed esci così Andrizza adesso, vai lì Ok Appena appena finita Così E ti sceglie tutto stesso, vero? Come? Sì, dove? Sarco così, vlas che andiamo a vedere Una appena a sinistra, vlas Sì E' un gun race, ma di quelli da 90 Va bene così, vlas Una appena a sinistra, vlas Eh, sei in strada Sei in strada, sei in strada Allora stiamo uscendo dal porto di Cremona E la cosa è abbastanza lunga, però piano piano riusciamo ad uscire E vediamo un attimo se loro vengono piano piano fuori E vediamo che cosa succede Andre, quando c'è a posto me lo dici che mi sposto leggermente a sinistra per andare dentro a destra Ah, poi ti puoi già preparare Ti preparo per andare dentro a destra Abbiamo un cartello a destra sul carrei E cartelli a sinistra sulla cúspide Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ci spostiamo leggermente a destra, ma leggermente che fa destra e sinistra la strada che passiamo dunque. Guarda, posso passare S? A destra, passa a destra. Ci spostiamo a destra, Vlad, ci spostiamo a destra. Vabbè, adesso com'è adesso e ce la fa abbassare. Dimi quando posso essere... Ma tu, devi passare a sinistra e non ricominciamo. A sinistra, a sinistra, non a destra. A sinistra! Tu, a sinistra, quella lì è a destra, eh! Ok, quando è passato Modou, riallunghiamo lunghi lunghi, eh! Vado lungo, lungo, c'è una leggera curva a sinistra e qua abbiamo la rotonda. Vado lungo, vado lungo, è un'altra. Piano, bugie, intanto siamo rotonda.